Pronto? Vai! Sino a sinistra, facciamo! 1, 2, 3, 4, 5, 8 Ok? Rifalo pure! Rifacciamo l'altra volta! No, ma la Sofia ci serve! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Incroci le gambe! Bravo! Sotto a voi, incrociamo le gambe! Sofia, rifalo per la Giulia a casa! Bravo, Vecca! Perfetto! Perfetto! Perfetto!